Volevi fare i conti? Certo. Come sta la situazione? Alla fine un po' stanco, però ho visto uno contro uno con il difensore. Ci ho provato, l'ultima benzina che mi rimaneva, è andata bene. Soprattutto ci ha permesso di respirare perché sul 2-0 la fine era importantissima. Quindi sono contento. Mi senti la squadra? Avete fatto bene il mister in prima o quarta d'ora. Poi dopo il rigore sbagliato si è venuto di fuori. Avete chiuso l'animesse nella loro armi e nella loro armi. Le occasioni di vincere? Sì, ma penso che abbiamo dimostrato comunque che siamo una squadra perché dopo un rigore sbagliato non è facile reagire. Invece noi dopo un rigore sbagliato abbiamo fatto meglio di prima, tutti insieme, perché era importante e siamo riusciti a farlo. Quindi va bene così, siamo un gruppo stupendo. Io sono fiducioso per il prossimo momento della stagione. Senti, come hai visto Piero Andreia al tuo fianco? L'anno scorso probabilmente lo aveva un punto buono. Sì, ma io non lo conoscevo però adesso da un po' che è rientrato allenarsi con noi e si vede che è un bel giocatore. Si vede pure da quello che ha fatto l'anno scorso. Tanto i numeri di Palo non si è assegnato tanto, ha fatto tanti assist e tutto. Quindi per noi è importantissimo che sia rientrato con noi. Non vedi che fai gol anche di nuovo? Magari, speriamo. Speriamo di vincere. Se faccio pure i gol è meglio però l'importante è che vinciamo. Speriamo di fare bene, fare le prestazioni che abbiamo fatto sempre fino adesso, di continuare a giocare bene. e speriamo di vincere.